Conosco dall'86 Silvio Berlusconi. Perché ha voluto essere qui ad Arcore oggi con questo striscione? Perché penso che augurare sempre il bene e la salute a una persona sia una cosa civilissima. Ha aperto la crisi di governo? E quante famiglie si dividono perché marito e moglie non vanno d'accordo? Dove vengono a mancare i patti, dove vengono a mancare certi rispetti di base, è impossibile andare d'accordo? C'è chi fa il diviso in casa e c'è chi va dall'avvocato. Quindi ha fatto bene ad aprire la crisi? Ma anche perché comunque essere incolpati sempre di minaccia, quando la minaccia non è solamente per ricordare che sono stati presi degli impegni, mi pare logico che una persona dica guarda che tu mi hai promesso questo. Spera di essere ricevuto in villa? Ma non è questo il motivo per cui io sono qua, anche perché ho avuto altre occasioni, non un compleanno per essere ricevuto o aver incontrato il Presidente. È un piacere che sono qua, a nome anche di tanti amici di Facebook che mi seguono, siamo in rete, avevamo organizzato di fare questa cosa, di mandare un messaggio o con telegramma o con questo striscione di auguri.